su una cosa che ci ha un po' colpito. Nel conte 1 a parlare del tema immigrati era solo Salvini, ministro dell'interno. Nel conte 2 a parlare degli immigrati è Di Maio, ministro degli esteri. Diciamo che Di Maio fa il Salvini nel conte bis? Beh sì, è chiaro. La risposta è anche abbastanza facile. È evidente che l'immigrazione più che un problema tecnico è un problema politico e quindi se ne occupava Salvini non solo come ministro dell'interno ma anche come leader della Lega. Adesso se ne sta occupando Di Maio non soltanto come ministro degli esteri perché il ministro degli esteri del precedente governo non ricordo una dichiarazione di Moavero milanese a proposito degli immigrati ma se ne sta occupando anche e soprattutto da leader di un movimento. E anche per ritagliarsi un po' quel ruolo che aveva Salvini e che insomma con tutto quello che c'è stato Di Maio cerca di ritagliarsi. E adesso... E adesso...